scelto per te questa settimana ti presenta gli alien cam i friend più polivalenti sul mercato che sembrano infilarsi perfettamente anche nelle fessure più impossibili li trovi su effettivi shop scontati del 20 per cento per entrambi le versioni original e hybrid vediamo come sono composti hanno quattro camme e uno stelo incredibilmente flessibile sono rinomati per tenere in fessure dove altri friend non si infilano nemmeno l'ideale per mini fessure e fessure irregolari le camme sono leggermente più morbide rispetto a quelle di altri friend in modo da mordere meglio nella roccia non è una cattiva idea avere sempre un paio di alien sul tuo imbrago sarai molto più tranquillo sapendo di avere con te un passepartout come questo la versione hybrid hybrid appunto si differenzia dall'original per la diversa dimensione di due delle quattro camme in modo da adattarsi anche alle fessure più irregolari con un mix di original e hybrid al tuo imbrago potrai tranquillamente coprire un ampio range di eventualità sono ormai moltissimi anni che utilizzo gli alien e di loro mi fido a prescindere per farvi capire non vado mai a scalare trad senza il mio alien rosso mi ha salvato in tante di quelle brutte situazioni che non valuto nemmeno lontanamente l'opzione di non portarlo